Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i Liguri che vivono e lavorano fuori andiamo in Spagna, andiamo a Valencia. Buongiorno a Cosimo Ursino, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Allora tutti noi abbiamo visto le immagini di questa tragedia senza precedenti e allora le chiedo intanto qual è la situazione oggi a Valencia? Oggi a Valencia il tempo è buono dopo le disastrose piogge di una settimana fa, il tempo da domenica in poi è iniziato piano piano a dare una tregua e tuttora si sta lavorando nelle zone più colpite a sud della città, Paiporta, Aldaia, Catarroja, tutti questi comuni che si trovano a sud del passaggio del fiume Turia sono ancora messi abbastanza male e purtroppo i militari o comunque l'unità di emergenza sono arrivate parecchi giorni dopo rispetto al momento della catastrofe e piano piano si sta cercando di ripulire le strade dall'ingenti quantità di fango e dai mezzi, macchine, camion e tutto quanto è stato trascinato via dalla piena del fiume Poio e del rio Magro. Oggi qui in città per fortuna nel senso nel nucleo urbano gli effetti non si sono visti perché la città è stata salvata da queste inondazioni però ovviamente ci sono fortissime ripercursioni sul traffico, sono pochissime le strade che sono state riaperte e la circolazione intorno alla città è molto problematica ancora, c'è tantissimo lavoro da fare. Ecco, lei diceva che la città è stata salvata perché le zone che sono state particolarmente colpite sono diciamo quelle a sud, giusto? Esatto, dopo una disastrosa alluvione nel 57 che ha colpito proprio anche la città di Valencia il corso del Turi è stato deviato fuori dalla città e questo ha servito parecchio, sostanzialmente è stato il fattore determinante per salvare il nucleo urbano. Quelle che non si sono salvate sono state tutte le zone a sud perché diciamo si sapeva che erano tutti quartieri o paesi costruiti su zone facilmente inondabili infatti storicamente non è la prima volta che succede, sono state inondazioni altrettanto devastanti nell'82 e nel 57 anche nel secolo scorso ci sono registri di inondazioni periodiche che vengono a media ogni 30-40 anni che colpiscono giustamente quelle zone qui da noi per fortuna. Si è molto parlato anche qua sui giornali di un ritardo nell'allarme che sarebbe arrivato insomma quando ormai l'acqua era già salita è così? Che cosa si dice su questo? Abbiamo anche visto insomma i reali in mezzo alla gente, nel fango le proteste forse non tanto contro di loro ma me lo dica lei ma contro diciamo la politica? Ma il fatto è che l'allerta era arrivata già, un allarme era arrivato già dalla zona di Utila-Rechena verso le 3 del pomeriggio perché paradossalmente tanto nella città di Valencia come nelle zone a sud della città praticamente non ha piovuto, tutta la giornata l'unica cosa c'era un vento fortissimo, un cielo nerissimo si vedevano queste nuvole che andavano a una velocità pazzesca ma le piogge più forti sono iniziate alla mattina 50 km a sud e poi si sono spostate in linea diagonale verso la zona di Utila-Rechena lì dalle 3 del pomeriggio avevano detto che tutti i fiumi che poi sarebbero, diciamo il loro percorso portava verso la città erano esondati, stavano dando l'allarme che in circa 5-6 ore sarebbe arrivata l'ondata di piena verso la città. Quello che non si capisce è come mai l'allerta sia stata data solo verso le 8 e 10, 8 e un quarto quando già dalle 6 del pomeriggio quelle zone ormai erano già sott'acqua e questo sostanzialmente è stata secondo me la causa principale che ha portato a questo elevatissimo numero di morti c'è anche da dire che comunque il centro meteorologico era già da una settimana che stava avvertendo di questa perturbazione che sarebbe stata molto potente, era solo stata dichiarata un'allerta arancione che qui l'allerta arancione sostanzialmente non proibisce i movimenti e gli spostamenti la gente stava facendo la sua vita normale e all'improvviso si sono trovati quest'onda di piena e l'allerta è arrivata ben due ore dopo quando ormai il disastro era già fatto cioè chi era salvo era già salvo e chi purtroppo era morto Anche perché molte, forse la stragrande maggioranza delle vittime si sono avute in macchina Come sta reagendo la popolazione? Immagino insomma sotto shock da una parte ma abbiamo visto come purtroppo anche Genova ha dimostrato nel suo passato tanti volontari, tanti cosiddetti angeli del fango che cercano di fare quello che si può Come ha reagito la popolazione da un punto di vista proprio psicologico? La gente ci ha messo, diciamo che quelli che viviamo da questo lato della città che si è salvata ci abbiamo messo un po' a capire realmente la gravità della situazione iniziavano a girare immagini già dai primi momenti di allagamenti, di straripamenti però non si pensava che ci potessero essere così tante vittime oltretutto quelle zone lì una volta inondate sono diventate praticamente impossibili da poterci andare e sono rimaste incomunicate, è saltata la luce, sono saltate le comunicazioni telefoniche quindi solo quando qualcuno da quelle zone lì è riuscito a passare nella città per cercare viveri, per cercare acqua ha iniziato a trasmettere la situazione reale e da lì la gente si è mobilizzata perché sinceramente non sembrava, sembrava veramente strano perché la città interna e il nucleo urbano da quelle zone sono solo divise da un fiume che saranno, ci saranno dei ponti che saranno a massimo 200 metri 200 metri da una parte era l'apocalisse 200 metri dall'altra parte c'era la normalità più assoluta nel momento che ci si è resi conto di questa situazione e vedendo soprattutto che il governo locale e il governo centrale praticamente non reagivano, non facevano nulla per poter aiutare queste persone la gente ha iniziato ad andare, a cercare di andare in qualche modo a portare i primi soccorsi a queste persone cosa da dire che tra l'altro appena il governo locale si è reso conto che c'erano tante persone che volevano andare ad aiutare all'inizio hanno bloccato questi volontari perché sostanzialmente dicevano per motivi di sicurezza che potrebbe anche essere, nel senso quelle zone lì a un certo punto è stato anche difficile per i primi militari che sono arrivati lì potervi accedere perché erano barricate di due o tre piani di macchine fango ovunque, ponti crollati quindi era proprio molto complicato gli effettivi che ora più o meno saranno 15.000 tra militari, unità militare di emergenza e protezione civile adesso stanno lavorando da domenica diciamo che stanno lavorando con più facilità tra virgolette però diciamo che per due o tre giorni quelle zone a 200 metri dal resto della città sono rimaste senza nulla per 48 ore senza acqua, senza cibo c'era gente addirittura senza magari vedere anche degli aiuti come lei diceva senza vedere aiuti e soprattutto senza vedersi con la possibilità neanche di potersi muovere molte persone sono rimaste bloccate nelle loro case perché non era possibile aprire portoni di casa perché erano bloccati da piani e piani di macchine e anche quello che ha fatto e questi reali in mezzo alla gente che cosa si dice lì? cioè è stata una cosa ben accolta ben vista per noi insomma in Italia è difficile immaginare la realtà della famiglia reale insomma lei ormai ha 20 anni forse anche di più che vive lì in Spagna com'è stato preso questo? ma dalla gente del posto non è stata presa molto bene ma la rabbia più grossa era contro il governo locale il governo centrale più che con il re il re di per sé aveva già offerto la sua guardia reale da mandare immediatamente a Valencia ma per come funziona lo stato spagnolo il re diciamo ha un valore simbolico anche a livello di decisioni in campo militare per cui le colpe più grosse si danno al presidente della regione e al presidente del governo perché entrambi a un certo punto si rimbalzavano la palla in modo un po' così inutile sostanzialmente bisognava agire subito probabilmente molte persone si sarebbero potute salvare se si fossero intervenuti immediatamente c'è anche da dire che buona parte diciamo dei corpi militari erano già pronti immediatamente avevano capito la gravità ma chiaramente se non ricevevano autorizzazione o da parte del governo centrale o da parte del governo autonomico potevano muoversi lei lavora nella logistica diceva all'inizio ci sono ovviamente ancora delle problematiche anche nelle zone dove non è piovuto dove non c'è stata la tragedia però ovviamente è tutto una conseguenza giusto? esatto sì diciamo che l'unico accesso utile alla città è da nord venendo da Sagunto il resto sia da sud che da ovest è ancora bloccato o se si è riaperto si è riaperto solo una corsia e comunque queste corsie vengono sostanzialmente occupate dai mezzi di soccorso che fanno avanti e indietro per cercare di ripulire le zone alcune ditte a sud della città dove sono presenti i più grossi policoni industriali alcune hanno già riaperto personalmente durante questa settimana avevo dei camion in gestione che sono riusciti comunque ad andare a scaricare il problema è le lunghissime code che si formano sulle strade oggi per esempio c'era un ingorgo di 70 km per cercare di poter arrivare in quelle zone lì perché ovviamente la circolazione è molto 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 limitata e molto difficoltosa però piano piano si sta anche per portare aiuto o per far arrivare i soccorritori e spostare e portare dei mezzi perché poi ci vogliono anche dei mezzi molto particolari purtroppo l'esperienza delle alluvioni qua in Liguria ce l'ha insegnato non sono semplicemente le braccia ma sono anche dei mezzi particolari che devono arrivare senta grazie intanto per tutto quello che ci hai raccontato ovviamente perché siete voi in primis insomma sempre i nostri inviati sul territorio anche all'estero però volevo chiudere con lei con una cosa positiva diciamo lei vive lì da oltre 20 anni come sono i cittadini di Valencia? come si è trovato in questi anni? molto bene sono molto accoglienti poi Valencia nel corso di questi 20 anni è sempre diventata più una città internazionale nel senso qui vivono un sacco di stranieri che si sono integrati benissimo con la gente del posto si vive bene si respiravano a buona atmosfera ora chiaramente tutta la città è più che lo shock è passato adesso rimane solo tanta tristezza è un po' di rabbia più che altro per la gestione tristezza perché comunque così tanti morti non si riaspettava nessuno rabbia perché si vede diciamo si percepisce una sorta di incompetenza da parte dell'autorità nel saper gestire un'emergenza che per carità eventi del genere sono anche difficili da riparare però sicuramente si sarebbe potuto fare molto meglio e vedremo insomma poi che cosa accadrà insomma dal punto di vista delle responsabilità io la ringrazio grazie per questo aggiornamento per questo racconto da Valencia la lascio salutare come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita un saluto a tutto il mondo e come dicono qui amo Valencia e speriamo che venga bene grazie grazie mille a Cosimo Ursino da Valencia Spagna arrivederci grazie a voi buona giornata